Un salto mortale in mezzo rovesciato carpiando. A Roma 2009, con questo tuffo fu fantastica, Tania Cagnotto. E non sbaglia, non sbaglia, non sbaglia! C'è bello, non sbaglia! Non sbaglia un 10! Grandissima Tania ha eseguito un tuffo, direi quasi perfetto. 3,60! Io, sinceramente, ci poteva fare anche qualche mezzo punto in più, cosa dici? Sì, sì, cioè potevano uscire tutti i 9, secondo me, ci stava tutto. Veramente eseguito bene, l'alto, girato bene. Però, 295,45! E adesso non vorremmo essere nei panni delle atlete in cor...